Ha preso in via in questi giorni il progetto di sostituzione di tutte le lampadine degli oltre 750 punti luce comunali di Limana. Dalla scorsa settimana sono al lavoro gli operai della ditta Eurogroup S.p.A. che si è aggiudicata l'appalto. È un'operazione che abbiamo messo in piedi ancora nel mandato precedente. Il progetto è un progetto che costa circa 3 milioni e mezzo di euro che verranno calati sul territorio in circa 18 anni di concessione che abbiamo dato nel contratto all'azienda. Alla fine di questo contratto Limana avrà finalmente una linea nuova efficientata che rimarrà poi alla comunità. I lavori già iniziati consistono nella sostituzione di tutti i corpi illuminanti. Verranno sostituiti anche alcuni pali, quelli più vetusti e a rischio per quanto riguarda la sicurezza, così come le luci dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Via Olimpia. I cittadini hanno già cominciato a vedere i primi risultati dalle vie più esterne. La ditta sta lavorando a cerchi concentrici verso il centro. Particolarmente complicato l'intervento nel popoloso quartiere di San Poi al buio dallo scorso autunno quando la giunsa comunale decise per combattere i rincari energetici di spegnere le luci in molte zone del comune. Il lavoro più grosso e più impegnativo è quello sul quartiere di San Poi. Sapevamo che le linee erano ammalorate. Lì verrà fatta, oltre che la sostituzione dei corpi illuminanti, anche il rifacimento delle linee a terra per mantenere la luce che in questo momento nemmeno le lampade a led riescono a tenere accesa. Sì, purtroppo la situazione di San Poi era più vetusta di quanto ci aspettavamo e anche di quanto si aspettava la ditta che ha vinto appunto l'appalto. Abbiamo chiesto ai cittadini della pazienza, gliene chiediamo ancora un po', però garantisco che entro metà, massimo fino a ottobre, tutti gli impianti saranno conclusi. So che è stato un anno difficile per i cittadini di Limana perché togliere l'illuminazione pubblica non è una cosa semplice e ha portato molte lamentelle e molto malumore fra le popolazioni. Ringrazio chi ha avuto la pazienza di capire la situazione di difficoltà in cui versava sia il Comune come tutte le famiglie per il Carro Energia e vedrete che però sarete ripagati con un servizio più efficiente e più moderno e inoltre che ci consentirà di risparmiare anche dal punto di vista economico. Grazie a tutti.